Ciao ragazzi e bentornati nel nostro appuntamento della settimana Dunque, non so voi, però io conto circa 3 settimane dall'uscita di un certo film ovvero dall'uscita di Avengers Infinity War Io praticamente sto aspettando questo film e basta, in questo periodo veramente non ho nient'altro in testa ed è proprio per questo motivo che oggi ho deciso di proporvi un video a tema Infinity War anzi direi che da qui in poi ogni settimana uscirà un video a tema Infinity War perché ho veramente tantissime idee per l'uscita di questa pellicola e in occasione di questo film voglio proporvi un po' di video a tema che alcuni pubblicherò qui sul canale di Film is Now, altri sul mio canale comunque oggi voglio partire appunto con il primissimo video a tema in particolare è un video in cui vorrei provare, come dire, a darvi alcuni consigli su come possiamo prepararci alla visione di questa pellicola Che cosa intendo? Molto semplicemente, tutti sapete che i film del Marvel Cinematic Universe non sono solo cinefumetti, sono proprio delle pellicole che spesso, anzi sempre contengono innumerevoli riferimenti e citazioni appunto alle opere a cui si ispirano ovvero i Marvel Comics quindi quello che voglio fare oggi è consigliarvi alcune delle storie più importanti che sono state scritte nei Marvel Comics e che hanno a che fare con appunto Thanos e il Guanto dell'Infinito e che potrebbero essere state ispirazione per la realizzazione di Avengers Infinity War e vi assicuro che già a partire dai trailer che sono stati rilasciati è palese che ci sono innumerevoli riferimenti a questi fumetti quindi io partirei subito con uno dei fumetti più, una delle storie più importanti dei Marvel Comics che comunque ha avuto una portata piuttosto, piuttosto considerevole considerando appunto le entità e i personaggi che sono coinvolti ovvero il Guanto dell'Infinito questa storia racconta della volta in cui Thanos una volta conquistato il Guanto dell'Infinito con tutte le gemme dell'Infinito diventa praticamente il padrone dell'Universo perché è molto importante? Beh, innanzitutto perché questa è una di quelle poche storie in cui i Vendicatori fondamentalmente sono impotenti molto semplicemente perché non hanno i mezzi, non hanno il potere per poter fermare effettivamente Thanos con in possesso appunto il Guanto dell'Infinito tanto è vero che in questa storia i Vendicatori sferrano un attacco in congiunto, tutti insieme a Thanos e Thanos riesce a sconfiggerli facilmente senza oltretutto utilizzare tutta la potenza del Guanto dell'Infinito Thanos di fatti riesce per esempio a cristallizzare Thor riesce a trasformare l'Adamantio che riveste le ossa di Wolverine in un liquido praticamente riesce a decapitare Iron Man in poche parole riesce a sconfiggere tutti i Vendicatori con grande facilità di fatti le forze che è necessario impiegare per affrontare un nemico di questo tipo sono ben altre non a caso in questa storia a un certo punto entrano in gioco anche alcune delle entità che regolano l'universo dei Marvel Comics entrano in gioco per esempio Ordine Chaos, Kronos, Galactus e addirittura Eternità che fondamentalmente è un'incarnazione della realtà intervengono tutte per combattere Thanos e non riescono a sconfiggerlo quindi è una storia importantissima che chissà potrebbe essere stata citata all'interno di Avengers Infinity War considerando la sua importanza e considerando appunto il fatto che come i fratelli russo hanno ribadito Thanos arriverà a conquistare tutte le gemme dell'infinito di conseguenza io vi consiglio la lettura perché è veramente una delle storie più belle più appassionanti e più sconvolgenti dei Marvel Comics subito dopo il guanto dell'infinito passiamo alla guerra dell'infinito e oltretutto questo pare essere il fumetto che presta il titolo al film anche se a dire la verità penso che comunque di questo fumetto all'interno del film ci sarà molto poco perché centro focale di questa storia è un personaggio che all'interno del Marvel Cinematic Universe non è ancora stato introdotto ma che invece nei Marvel Comics e in particolare per quanto riguarda Thanos e le gemme dell'infinito ha sempre rivestito un ruolo importantissimo anche nel fumetto di cui vi ho parlato prima questo personaggio è Adam Warlock Adam Warlock probabilmente verrà introdotto nel Marvel Cinematic Universe di fatti è stato menzionato all'interno della scena dopo i titoli di coda di Guardiani della Galassia volume 2 comunque è un personaggio piuttosto controverso che ha sempre rivestito un ruolo importante nel come dire contrastare Thanos e i suoi piani di conquista o comunque nel avere un ruolo importante per quanto riguarda le gemme dell'infinito di fatti lui è il detentore della gemma dell'anima e fondamentalmente questa storia racconta di come la sua controparte malvagia ovvero il Magus minacci l'intero universo Marvel grazie appunto alla conquista del guanto dell'infinito ancora una volta quindi entra in gioco il guanto dell'infinito spiegarvi che il Magus è un po' difficile più che altro perché non voglio fare troppi spoiler per chi si vuole andare a leggere i fumetti posso dirvi semplicemente che Adam Warlock è un personaggio che a un certo punto della sua esistenza decide di espellere dal suo essere il bene e il male perché non vuole che questi aspetti della sua personalità possano influenzare il suo giudizio di conseguenza li espelle e le manifestazioni fisiche del bene e del male sono appunto il Magus che rappresenta il male quindi in Infinity War in questa storia a fumetti il Marvel Universe, i supereroi del Marvel Universe si trovano costretti ad affrontare la controparte malvagia di Adam Warlock dall'altra parte c'è il bene la cui manifestazione fisica invece è questa donna che si fa chiamare la Dea di cui adesso parleremo perché è protagonista della prossima storia la prossima storia è La Crociata dell'Infinito in un certo senso questa è la vicenda che va a chiudere questa ideale trilogia dell'Infinito chiamiamola che è iniziata col Guanto dell'Infinito e che appunto si conclude con La Crociata dell'Infinito adesso non è una trilogia vera e propria però bene o male è un arco narrativo che effettivamente si può avere un inizio nel Guanto dell'Infinito e una fine nella Crociata dell'Infinito in questa vicenda questa volta il Marvel Universe è costretto a fare i conti con la controparte benevola appunto di Adam Warlock ovvero la Dea nonostante possa sembrare strano che la controparte buona di Warlock possa rappresentare una minaccia diventa una minaccia semplicemente perché i suoi piani rischiano appunto di mettere a repentaglio l'equilibrio dell'universo equilibrio che si fonda appunto sul principio del bene e del male che devono restare tali ma soprattutto anche perché comunque i metodi utilizzati da questo personaggio, dalla Dea per perseguire il suo obiettivo sono un po' cortodossi, difatti lei inizia ad esercitare una sorta di controllo mentale su alcuni dei supereroi e in generale degli individui che hanno più senso morale e religioso di tutti di conseguenza possiamo dire anche che gioco un po' sporco per perseguire il proprio scopo comunque questa è una vicenda in cui ancora una volta il personaggio di Adam Warlock e anche di Thanos rivestono un ruolo importante, Thanos oltretutto è stato fondamentale anche nella guerra dell'infinito non l'ho menzionato ma Adam Warlock e Thanos fondamentalmente sono i due personaggi cardine della trilogia dell'infinito, fondamentalmente sono i personaggi attorno a cui ruota sempre tutto è anche interessante osservare che in queste storie viene anche sviluppato un'immagine di Thanos nello specifico che è molto particolare, Thanos infatti non è inquadrato semplicemente come il cattivo ok nel guanto dell'infinito sicuramente era lui il cattivo ma andando avanti con questo ciclo di storie si viene a scoprire come lui comunque sia anche interessato a salvaguardare l'universo nella misura in cui una minaccia esterna potrebbe minacciare i suoi piani di conquista questo è una piccola parentesi per dirvi che appunto Thanos è un personaggio molto sfaccettato e spero che oltretutto verrà ripreso in questo senso anche all'interno del film infine ragazzi l'ultima storia fumetti che mi sento di consigliarvi è un po' più recente ed è Infinity questa è una storia uscita qualche anno fa come dicevo è piuttosto recente rispetto alle storie di cui vi ho parlato fino ad adesso che invece sono dei grandi classici dei Marvel Comics questa storia è più recente e fondamentalmente racconta della volta in cui i Vendicatori la maggior parte dei Vendicatori si sono trovati impegnati a combattere una guerra galattica contro i costruttori ovvero questa razza antica che minaccia di distruggere la Terra e nel frattempo Thanos approfitta del fatto che la Terra sembra essere sfornita dei suoi difensori per attaccarla per sferrare un attacco ma anche per perseguire un obiettivo molto più specifico di cui però non voglio parlarvi per non spoilerarvi troppo la storia di questo fumetto ecco Infinity è una storia che mi sento di consigliarvi perché comunque già all'interno dei trailer di Avengers Infinity War sono rintracciabili dei riferimenti a questa storia un esempio il momento in cui il Doctor Strange sembra appunto essere come dire indifeso con tutti questi aghi attaccati per tutto il corpo è una scena che per certi versi mi ha ricordato qualcosa che succede all'interno di Infinity di fatti in quella scena che ci è stata mostrata nel trailer il personaggio sembra essere di fronte a un membro dell'ordine nero di Thanos ovvero Fauce Debano e Fauce Debano è il personaggio che all'interno della storia di cui vi sto parlando all'interno di Infinity a un certo punto riesce a controllare mentalmente il Doctor Strange di conseguenza quella scena apparsa nel trailer mi sembra un riferimento al fumetto e oltretutto il fatto che Fauce Debano sia un personaggio che è in grado come dire di esercitare un controllo mentale mi ha fatto pensare che quella scena mostrata in realtà probabilmente sta avvenendo all'interno della mente del Doctor Strange piuttosto che su un piano più fisico quindi questo per dirvi che Infinity è effettivamente una vicenda da cui il film che sta per uscire potrebbe avere tratto ispirazione per quanto riguarda alcune scene perché comunque si sa che questi film cercano di fare riferimenti sia ai fumetti moderni come appunto Infinity che a quelli più classici come quelli di cui vi ho parlato prima oltretutto Infinity è anche una storia in cui i Vendicatori per certi versi prendono anche una batosta piuttosto sonora da Thanos però non vi voglio dire altro per non rovinarvi il gusto della lettura quindi ragazzi questi sono quattro fumetti appunto che vi consiglio di leggere in preparazione ad Avengers Infinity War perché sono dei fumetti a cui penso che il film si sia ispirato appunto che potrebbe contenere dei riferimenti appunto a queste storie chiaro che se siete dei profani forse farete un po' fatica a raccapezzarvi però comunque sono delle storie che bene o male si riescono a leggere adesso magari Infinity è un po' più complicata rispetto ai classici di cui vi ho parlato prima direi che a partire dal guanto dell'infinito ci può stare nel senso sicuramente non capirete tutto 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 però comunque ritroverete molti dei personaggi che avete già visto all'interno del Marvel Cinematic Universe sicuramente ci sono altre storie a fumetti che potrebbero aver ispirato il film anzi qualcuna me ne viene in mente ma il video è già abbastanza lungo di conseguenza preferisco non parlarvene comunque ora voi con un commento fatemi sapere che cosa ne pensate di queste storie a fumetti se le conoscete se vi ho convinti a recuperarle e soprattutto fatemi sapere se avete altri consigli appunto altri consigli fumettistici diciamo tra virgolette per prepararci alla visione di Avengers Infinity War quindi ragazzi spero che questo video speciale vi sia piaciuto la prossima settimana ne uscirà un altro su un argomento diverso ma che ha sempre a che fare con Avengers Infinity War vi ricordo anche che tra un po' inizierà sul mio canale la Infinity Week ovvero una settimana prima dell'uscita di Infinity War pubblicherò tre recensioni e ogni recensione sarà incentrata su una delle tre fasi che compongono appunto il Marvel Cinematic Universe quindi recensierò fase 1, fase 2, fase 3 e nulla spero che il video vi sia piaciuto ancora e vi auguro di passare un nuovo weekend noi ci vediamo col prossimo video e vi auguro di passare un video